Dei Melba Toast? Che accidenti sono poi Melba Toast? Quanto è questo? Un dollaro. Un dollaro? E che è una gioielleria? 50 centesimi. Ehi, non sparargli, ti prego. Senti, c'è stato un omicidio proprio in fondo all'isolato. Se spari ti sentono, ti prego. Vuoi i soldi? Ecco, dai, prendeli. Esci del retro, l'hai già presi? L'hai già presi? Senti che roba. Sta zitto! Vuoi i soldi? Vuoi i soldi? Ecco. Spingi qui. Fumi? Che fumi, eh? Prendi qualche stecca, vieni. Ti piacciono i dolci? Ti piacciono i dolci? Perché lui gli dai anche una bella grattativa, visto che... Vosetto, sta zitto! Ti prego, esci del retro, devi andartene ora, devi andartene con calma, ti prego. Ce la puoi fare, però devi andartene adesso. Chiamagli anche un taxi! Cazzo, alzati in piedi! Ti prego. Ti prego. Ti piace il cioccorino? Che ne dici di una Dite Sprite? Lo sentiranno, te lo giuro, sono in fondo all'isolato. Ehi! Sta bene? Vaffanculo! Chiami il 909 e dica che un agente ha bisogno di assistenza. Sei uno sbirro! Chiami e dica dov'è il suo negozio! Questo non è il mio negozio, è il suo negozio. È il suo? Chi ha chi ci riposo. Chi è uno, è il suo giro. Qualcì?